Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna per traffico intenso, più a nord, prudenza per nebbia banchi tra Pian del Voglio e Aglio. Ci spostiamo sulla Firenze Mare, 3 km di coda per traffico tra Firenze Ovest e Firenze Peretola in direzione di Firenze. In Fipili troviamo code per i rientri serali in uscita alla Strassigna per chi proviene dal capoluogo. Uno sguardo al traffico urbano di Firenze e rallentamenti sui viali di circonvallazione. Ricordiamo che da domani tornano le manifestazioni legate a Pitti Immagine, tutte le modifiche alla circolazione sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infia, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie!